Qui c'era già un vigneto impiantato che io tengo in affitto, vigneto che avrà già qualche anno, adesso io non saprei, ma sicuramente 20-25 anni tutti, e c'era tutta questa parte di prato presumibilmente incolto perché non portano più su neanche i manzi, e quindi per sfruttare questa parcella, per sfruttarla tutta, abbiamo deciso di impiantare. Quindi nel 2017 abbiamo piantato le prime barbatelle, purtroppo il gelo ce le ha portate via tutte quante, e quindi negli ultimi due anni abbiamo provveduto a rimpiantare tutto. E adesso che le barbatelle stanno crescendo, queste sono più piccoline, vedi quelle là sono già un po' più grandicelle perché hanno due anni, stiamo montando la struttura, struttura che a Morgè rimane la pergola, la pergola bassa, rigorosamente con legno sopra, che è bella da vedere ma ci dà un sacco di lavoro.